Berillo, Berillo saluta papà, dove sei? Berillo, 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 vieni qua, salta, vieni, Berillo, vieni. Oh, tesoro. Ho fatto proprio bene a non darti la trippa. Maggiore, una telefonata sulla tua, poi mi devi mettere una firma. Sì, pronto? Non ho capito. Un incidente. E' stata investita. Signor Maggiore, che è successo? Ma che è successo? Che è successo? Mia moglie desiderava mantenere l'anonimato. Non si preoccupi. Ah, e per favore, non voglio sapere a chi andranno. Gli occhi di Nina. Stia tranquillo. Eccomi qua, questo sono io. Questo con le band degli occhiali da sole. Bruno Carramone, dopo il trapianto. Questo a sinistra è Peppino, detta Batman. Quello a destra è Samuele, detta Sandocanna. Sono le mie guardie del corpo. Figurati. Io sono lettore oculare, perché è nell'occhio che il Macomorris vede la vostra realtà. Perché è nell'occhio dell'uomo che il Macomorris vede l'uominio. E per esempio, nella donna, il Macomorris vede il doninio. E nell'occhio del cane, chi può anche il Macomorris vedere il caninio. E se uno è cieco? Ma come fa? È troppo forte il Macomorris. Che peccato che il capo non può sentire. Perché non può sentire? L'anestesia ancora non è passata. Che significa? Quando uno sta dormendo, sente tutto. Anzi, nel sonno sei più intelligente di quando sei lì. E allora perché non ti dormi? Tu faccio ingoiare questa cicla, ma non mi provoca. E perché? Ti fai male. E chi è che mi ha detto a fare male? Il Macomorris? Ecco, mi fanno cenno dall'erecia che devo lanciare la cicla a domani.